Va bene, questa è la lista europea barra occidentale dello Structure Deck Heroes Strike che è abbastanza una cagata, le carte nuove ci sono comunque, ci sono dentro eroi elementali improponibili come Neos e Avian anche se va detto che per compensare a sta schifezza sono state messe dentro alcune carte che, scusatemi le virgolette uditive ma scombano con gli eroi elementali normali o fregnacce del genere e niente, farò qualche partita con questo mazzo mostrandovi le pecche, i difetti, le combo, sempre tra virgolette che si possono fare e cercherò di evocare le varie fusioni per mostrarvele al pieno della loro forza partiamo dalla lista base e poi col proseguire del tempo la modifichiamo quindi aspettatevi qualche partita palta, ecco la prima cosa che mi suodesca a far notare è la presenza delle carte da fusione all'interno di questo mazzo lo so che quando si parla di eroi elementali si parla di fusioni però questo mazzo è concentrato a chiudere il ciclo dei maschi diro che sono gli eroi che hanno meno a che fare con le fusioni quindi, boh, chiamiamo le fusioni filler, ecco e c'è anche curibolato grazie a tutti beh, che dire, se non altro abbiamo dimostrato che è un mazzo che riesce a vincere se l'altro non fa niente grazie a tutti grazie a tutti ecco, altra cosa interessante ci sono dentro alcune carte che scombano sempre tra virgolette con gli eroi normali ma ci sono due eroi normali all'interno del mazzo tre, se contiamo Neosalius sono state messe lì come filler appunto per riempire non ha senso poi un povero Cristo si compra il mazzo come ho fatto io adesso e si ritrova sta carta che recupera gli eroi normali dal cimitero solo che eroi normali ne hai due Evion e Neos che sono anche un po' difficili da mandare al cimitero più che altro Neos poi, vabbè, l'altro è un mazzo serio e giustamente scomba al secondo turno però, vabbè siamo 1-0 finora anche se questa la perdiamo andiamo 1-1 nella terza possiamo rifarci grazie a tutti Mimicuribo Mimicuribo grazie a tutti grazie a tutti iniziamo così le modifiche siccome non ho voglia di fare una cosa veloce se mi piace prenderla a lontana inizierò aggiungendo semplicemente le fusioni le fusioni dell'eroe mascherati che si fanno con l'Iromask che non è presente nel mazzo almeno non nella lista che ho letto e quindi tolgo la cartaccia la inutile che avete appena visto e ci metto dentro un no, Iromask scusate un Mask Change chiedo scusa e niente nei prossimi video giocheremo dentro con tutte le fusioni possibili e immaginabili e la Mask Change quindi grazie a tutti grazie a tutti